Buongiorno, io sono Maurizio Tetto, facciamo parte del gruppo Tecnocasa. Tecnocasa penso che sia conosciuto a livello nazionale perché vantiamo circa 2200 punti vendita in tutta Italia, dislocate in tutto il territorio italiano. Nello specifico questo punto vendita di Magliano-Sabina si occupa delle zone della Sabina e nello specifico dei comuni di Magliano-Sabina, Calvi dell'Umbria o Tricoli, Tarano, Montebuano e Collevecchio, che sono paesi qui appunto della ridente Sabina. Abbiamo aperto questo ufficio ormai dal 2000 e operiamo nel settore da oltre 20 anni. Perché acquistare in questa zona? Beh, questa zona ha diversi punti a suo vantaggio. Primo fra tutti sicuramente l'ubbligazione perché è una zona che si trova praticamente alle porte di Roma ormai, con una facilità di comunicazione e di passaggio enorme perché è presente l'autostrada alla Roma-Firenze, c'è un servizio metropolitano con il treno che arriva fino a Roma-Fiumicino e diciamo che questa ubicazione rende molto allettante questa zona anche e soprattutto per i romani e per gli stranieri, che sempre più stanno confluendo in questa zona e acquistando delle proprietà sia a case indipendenti che casali o terreni per la coltivazione dei fondi. Naturalmente oltre l'ubbligazione, cosa molto importante è lo stile di vita in questa zona. Perché? Perché comunque si è mantenuto ancora lo stile proprio tipico della zona, che è quello del contatto umano, della comunicazione, delle usanze e perché no anche della gastronomia, che è un altro punto a grosso vantaggio di questa zona. Naturalmente un altro elemento molto importante nel nostro specifico è anche la tipologia delle case e i relativi prezzi, perché siamo molto molto concorrenziali in quanto abbiamo dei prezzi che sono molto molto vantaggiosi, soprattutto in questa fase di mercato, che non è più di crisi ma di una continua ma lenta ripresa del mercato immobiliare. Abbiamo dei prezzi che sono anche del 30-40% inferiore rispetto a altre località che magari distano non più di 15 minuti o 20 chilometri rispetto a qui. Quindi diciamo che l'insieme di questi fattori rende molto molto appetibile l'acquisto di una proprietà in questa zona. Grazie. 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 Grazie.